Sono Luigia Sonseri, sono una delle educatrici del progetto Freedom. Ci occupiamo di minori stranieri, di tiva di tratta. Il vostro corso indubbiamente a noi ci ha agevolato molto perché il fatto che siete voi a venire in struttura mette dei punti a favore delle ragazze, in che senso? Si sentono a casa, si sentono protette e quindi il fatto che voi veniate qua le ragazze sono ben disposte a partecipare. Primo perché c'è l'operatore e quindi li può sostenere. Anche se non tutte hanno inizialmente intrapreso il vostro corso però poi andando avanti voi siete stati abbastanza capaci nel coinvolgerle tutte. Grande capacità di coinvolgimento da parte nostra. È stato un corso che ha soddisfatto alcune loro domande perché fino a quando le fanno agli educatori ha un suo paese, una sua realità ma quando viene rafforzato da supporti esterni valorizza ancora di più il nostro operato quindi ottima collaborazione anche. Indubbiamente le loro domande sono quelle sul lavoro, sulla economia, sul loro futuro. Diciamo che è questo quello che a loro interessa perché sono proiettate nel futuro che ha suscitato anche delle curiosità. voi avete iniziato dalla base di alcune domande come cosa sai fare, cosa ti piacerebbe fare e da lì chiaramente era un continuo salire un gradino dietro l'altro. Penso che le ragazze, te ne siete accorti anche voi hanno soddisfatto appieno delle loro domande. è un coinvolgere, un integrare le ragazze un mettere a conoscenza di che cosa vanno a fare e vanno incontro, ma anche il fatto di rendersi indipendenti perché loro quello che vogliono è un po' dimenticare senza perdere le origini, però dimenticare ciò che erano e come venivano considerate e che ormai si sono proiettate verso nuove prospettive e quindi loro capiscono che lavorare significa guadagnare significa soddisfare i propri bisogni senza dipendere anche da noi. Noi cerchiamo sempre dei collaboratori costruttivi chiaramente come nel vostro caso tutto ciò che possa essere di crescita per le nostre ragazze noi lo sposiamo infatti quando inizialmente ci siamo conosciuti ho subito visto positivamente questa nostra collaborazione siamo molto aperti alla collaborazione questo sì e se ci dovessero essere altri corsi noi saremmo sempre per la crescita delle ragazze e l'integrazione sì, siamo sempre bellissimi